il fauniera è veramente una bella salita quando dico bella salita vuol dire che è dura vuol dire che significativa vuol dire che ha comunque segnato la storia del giro d'italia io mi ricordo la prima volta che l'ho affrontata sai facevo le ricognizioni e fatto una fatica a farla perché nel mese di marzo la strada era praticamente chiusa allora sono riuscito a salire da prad leves è una salita che non si conosceva nel 1999 o meglio nell'inverno o nella primavera del 1999 e quindi io comincio a salire ma dopo ma dopo un po di chilometri a quattro chilometri dalla vetta la strada era chiusa perché sai una strada stretta straordinaria non c'era assolutamente niente nessuno solo che c'era ancora la neve allora sono stato costretto a tornare indietro e risalire da borgo san dalmazzo e bene o male sono riuscito ad arrivare in cima quindi per fare una ricognizione di tre minuti ho impiegato due giorni ma comunque ne valsa la pena perché perché prima tra tutti ho visto questo grande spettacolo prato magno la salita sei subito la strada è molto molto dura con degli strappi che superano il 15 per cento poi si restringe sempre di più prato magno se questa chiesa e poi questa striscia di asfalto che si inerplica su questa montagna dove non c'è assolutamente niente ed è questo il belgo ma non mi sarei mai immaginato che su questa salita ci sarebbe stato uno spettacolo come successo in quel 29 maggio del 1999 tappa del giro la maglia rosa era sulle spalle di jalabert marco pantani risponde ad un attacco di gimenez e poi e poi come al solito cerca di di andarsene stacca la maglia rosa jalabert con lui rimangono gotti e clavero e mi ricordo ancora che lassù in cima c'è uno striscione dio c'è ed è pelato straordinario no pensa l'amore e la passione che la gente riversava su marco pantani ma quel giorno l'impresa non la fece marco pantani la fece paolo savoldelli scollinò con due minuti e mezzo e da lì poi no il soprannome il falco paolo era fortissimo in discesa era giovane no ancora semi sconosciuto non si pensava che un corridore come lui potesse un giorno vincere un giro d'italia comunque scollinò con due minuti e mezzo riuscì a riprendere e staccare tutti e quel giorno paolo savoldelli vinse meritatamente la tappa che arrivava a borgo san dalmazzo e dietro marco pantani arrivando con gotti e con clavero riuscì a conquistare il secondo posto e prendersi o meglio a riprendersi la maglia rosa stata veramente una tappa meravigliosa perché alla fine appunto c'è stato un condensato di spettacolo l'attacco di pantani poi lui che conquista la maglia rosa al giro del 2001 una tappa che da imperia avrebbe dovuto portare fino a sant'anna di vinadio sarebbe stata la cima coppi perché fauniera anche altro che sono 2500 metri di altitudine no ma purtroppo quelli erano giorni amari tragici inquietanti ci fu quella famoso sciopero da parte dei corridori dopo il blizza di sanremo del giorno prima io ricordo che ero in cima proprio sant'anno di vinadio ad aspettare i corridori che non arrivarono mai perché quella tappa fu annullata e ripresero poi il giorno dopo fauniera che poi non è più stato riproposto anche se alla fine un'altra volta si fece il colle di fauniera quattro anni dopo a quella a quel famoso giorno trionfale del 1999 però si deviò a un chilometro e mezzo dalla vetta per andare ad affrontare un altro colle quello inedito desischie i colle desischie pantani stava tentando disperatamente di risalire la china perché stiamo parlando del 2003 e quel giorno pantani e quel giorno pantani insieme a garzelli che non era più suo compagno di squadra ma era un avversario stavano lottando per una posizione al vertice della classifica quel giorno nevicava e anzi lassù i corridori si presano anche una bella grandinata e nella discesa quella di sanpeire marco cadde insieme garzelli faceva un freddo assurdo si scendeva su strada di ghiaccio pantani rimase per sette lunghi minuti a terra a bordo strada dolorante e deluso in lacrime ma non abbandonò si riprese e arrivò comunque al traguardo ormai sconfitto era il 2003 ed è stato l'ultimo giro d'italia di marco pantani buon anno Grazie a tutti.